Ehi, carissero di me, ci conosciamo già, New Entry, un gioco veloce per andare via, venite a mangiare la pizza del cardinale ragazzi, perché è qualcosa di incredibile, e non solo di parte, tu sei il mostro della pizza, punto film. Allora, facciamo un gioco velocissimo, carte tutte regolari, perché questa è tutta realtà, perché era giusto che tu le raccogliesse, ti vuoi verità, c'è anche una qua per terra, Paolo, vedi Paolo, di volta scappa, che sa perché, guarda che quello che io faccio non ha una spiegazione, te ne accorgerai, ecco va, guarda qua, 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 8, dimmi, di che, lei? Cuori, 8 cuori, come mai 8 cuori? sono un tipo particolare? sì, perché? perché mi piace 8 cuori gira gira, gira, veloce veloce, veloce gira da questa carta aspetta, aspetta sì, però non è uscito quella che volevo io ancora devi parlare ancora il bambino devi tornare ma che hai detto? a casa l'hai detto adesso lui è importante adesso tocca a te ascoltami benissimo ascoltami benissimo però tocca la carta che vuoi tu ma come sbagli comunque no, non succede mai senti il cuore, vuoi cambiarlo ti va bene? no, perfetto sicuro? no, il cuore è portato male come vuoi tu? ci vuole la pasta, sei da campo questo non sai che di picche? perfetto sicuro? non vuoi cambiare? no, no ok, guarda adesso fagli mischiare regalto mescola, tu mescola io, vai no, io mescolo è lo stesso, vai mescola fammi mescolare ma mescola non ce lo passiamo non ce lo passiamo non ce lo passiamo non ce lo passiamo non fa niente non ce lo passiamo non ce lo passiamo non ce lo passiamo